La Rassegna Internazionale Organistica, che è in corso nella Cattedrale di Santa Maria di Alghero, dopo il primo brillante concerto ottenuto il 10 luglio scorso dal maestro Fabio Fregato, prosegue il prossimo venerdì 17 luglio, sempre alle ore 21, con un altro noto organista, il sassarese Giulio Gelsomino, che eseguirà il preludio in sol di Bruns, il preludio e fuga in re maggiore 532 di Bach e la terza sinfonia opera 28 di Vierne. La Rassegna Organistica, sotto il coordinamento del maestro Ugo Spanu, è inclusa nel Festival del Mediterraneo 2020, organizzato dall'Associazione Arte e Musica, con il patrocinio e contributo della Regione Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio Regionale, della Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero, il patrocinio del Comune di Alghero e sotto la direzione artistica del maestro Antonio Mura. Il supporto logistico e organizzativo è fornito dalle diocesi di Alghero Bosa e Sassari. Sono in programma nel mese di luglio ulteriori concerti della Rassegna Internazionale Organistica, sempre alle 21 e sempre nella Cattedrale di Santa Maria di Alghero, martedì 21 con Benedetta Porcedda e Domenico Lavena, giovedì 23 sarà Pirroni ed Effisio Aresu, mentre il 31 luglio sarà la volta di Fabrizio Marchionni.